Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni. Due opposte figure bariche condizionano il tempo sull'Europa. Un'area di alta pressione è presente nel cuore del continente, si allunga anche verso le nostre regioni centrosettentronali, dove il tempo nel complesso rimarrà bello. Invece un'area di bassa pressione è presente nel sud-est europeo. Ebbene, tra queste due figure bariche si creano correnti fredde che raggiungono prima i Balcani, ma poi anche l'Italia, e che andranno a interessare soprattutto le nostre regioni meridionali. Quindi vediamo cosa accadrà nel nostro paese nelle prossime ore. Queste macchie azzure rappresentano le precipitazioni che sono destinate ad arrivare al sud, piogge lungo la fascia costiera, ma anche neve sull'Appennino meridionale, anche a quote relativamente basse tra la fine di questo mercoledì e la giornata di giovedì. Le temperature infatti stanno diminuendo, vediamo cosa accadrà. Partiamo da valori ancora abbastanza minti. Questa colorazione verde indica temperature massime che al momento ancora superano decisamente i 10 gradi da nord a sud. Ma vediamo cosa accadrà nelle prossime ore. Arriva aria più fredda, già domattina avremo valori decisamente più contenuti e poi nel corso della giornata di domani temperature sempre più basse. Nel pomeriggio, come vedete, colorazione decisamente più tenue rispetto alla giornata odierna. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su 3dmeteo.com